da golf television e da roberto ciao a tutti come avete visto fatto un bellissimo colpo sono in fairway in questo caso la regola invernale mi consente di piazzare la palla perché nelle regole locali che mi sono state date all'entrata del golf dove sono venuto a giocare c'è scritto che io posso ovviare a questa situazione e cosa farò alzerò la mia palla e andrò a piazzarla in questa posizione la palla piazzata è in gioco come ho già detto più di una volta la distanza che mi è stata consentita è quella di uno score ma volendo prima di alzare questa palla anche se non la marco posso sostituirla perché posso sostituirla perché in questo caso io vado a piazzare la mia palla quando non posso sostituire la mia palla quando la palla originaria deve essere ripiazzata nel punto dal quale l'ho alzata l'esempio più classico di tutti è quando alzo la palla dal patting green ne marco la posizione immediatamente dietro o di lato e poi ripiazzo la palla in quella posizione ma ripiazzo la palla ma ci sono alcune eccezioni per cui mi è consentito di sostituire la palla quando è necessario che io vada a ripiazzarlo e vediamole ve le elenco non posso fare degli esempi visivi perché ci vorrebbero tanti attori per poterlo fare ripiazzare la mia palla come nel caso come ho detto prima del patting green non posso sostituirla ma ci sono delle eccezioni a questa situazione e quali sono queste eccezioni la prima è quando la mia palla non è facilmente recuperabile perché magari si trova in un'acqua temporanea un secondo caso importante è quando la mia palla è giocata da un altro giocatore che quindi quello ha giocato la palla sbagliata quindi me l'ha in un certo senso me l'ha portata via però la giocata lui io devo ripiazzare sul mio punto la mia palla originaria ma non riesco a recuperarla ed è in quella situazione lì l'altro caso è quando il gioco viene sospeso fulmini e acqua si sospende marcherò la posizione della mia palla me la porto via quando il gioco viene ripreso con la procedura della ripresa del gioco posso sostituire la palla l'altro caso anche questo è molto importante è quando dopo aver fatto un colpo sento che questa palla ha avuto un volo strano e marcando nella posizione della palla l'alzerò per vedere o riconoscere se questa palla è effettivamente rotta o tagliata visibilmente rotta o tagliata in questo caso se la mia palla è visibilmente rotta o tagliata potrò sostituirla con un'altra palla questi sono i casi soli in cui io posso sostituire una palla una volta che sono obbligato a ripiazzarla nella sua posizione originaria come sempre se avete dei chiarimenti scriveteci noi saremo in grado di rispondere e da gol televisione da roberto ciao a tutti